Ciao a tutti e bella ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, c'è anche mia sorella Allora, ho pesato sempre questi due pacchetti, ovviamente io ho dato il più pesante a mia sorella Guarda, devi vedere che cosa ti è arrivato Ecco, gli dai Sì ragazzi, abbiamo già riempito Dai Apri prima lui Sono due pacchetti di origine perduta Origine perduta Grazie Perché lei è più grande di me, però non dico quanti anni ha E già muovete Dopo la regine su Ragazzi, codice bianco Codice bianco No, codice bianco Ho visto una cosa della viastro Eh va buono, l'ho fatto il trick Il trick, fam Allora iniziamo con la prima carta Quanto vale? Eh niente, niente Non c'è niente Non c'è niente Oddio, questa è la mia, dai Cioè, tutte queste altre carte che mi mostro Questa è l'accordo Jo Magradi Questa è giusta Questa te Bien Vabbè, che se ne frega Dai raga Oddio Oddio Questa è la tua di carta Adesso aspetta aspetta voglio funzionare Volevo una via Mi fatti in base Penso che era Pikachu Max Ok Oddio raga Questa carta Più bella Ma la devi far vedere in camera Ma la devi far vedere in camera Oh E' un enario Vabbè dai Ragazzi le migliori che abbiamo trovato Sono queste due Queste due Ovviamente Quella di mia sorella gliel'ho data A Ray Di lui Sofì Non ho sbagliato a dire A lei Vole un sacco Vedi che è molto pesante Sì è bella pesca Però guarda la mia sbrillucica di più Perché è una holo Una reverse Ma pure io ho trovato una reversa Aspetta così Guarda così Olo Eh però la mia è una reverse Guarda di dieci Guarda Dieci Ragazzi adesso faccio vedere anche il mio raccoglitorio Che mi è arrivato Io l'ho compiuto tutto Aspettate Ora stoppiamo che le mettiamo a posto Codicino raga Chi vuole giocare Vuole un regalo Intanto me non me ne frega Ok Ora le mettiamo a posto Queste qua Che abbiamo trovato E vi facciamo vedere Ma Sara Ma è tu Ciao raga Raghi Raghi Allora L'abbiamo messo a posto L'abbiamo messo a posto L'abbiamo messo a posto Ma Sara Fai così Abbiamo trovato una certa Vabbè lo sono già il nome Sara Vabbè Abbiamo trovato una certa Codra E un garden Gardevoir lucente Però anche questa è bella Bella Questa io l'ho trovata No è io Oh scusa Vabbè ci vediamo In un prossimo video E ciao Ragazzi